Ma è sempre la solita Allwood, ma questa è la Octa-Core e spinge parecchio di più. Ciao ragazzi e bentornati ad una nuova recensione di Tennis Taste. Oggi siamo in compagnia di una racchetta che probabilmente è il flagship da parte di Donnai, ovvero la Allwood 102, che in questi anni ha scalzato anche la Pro One dal punto di vista della presenza nei campi di gioco. Donnai è sempre un marchio di nicchia, ma Allwood è stato un telaio, davvero un best seller in questi anni, perché ha dato l'opportunità a tanti di avere il feeling quello da racchetta classica vera, ma in una dimensione giocabile. E continua ad essere così, ma Octa-Core, quindi con il nuovo sistema a otto strati, quindi al suo interno, tra l'altro come hanno fatto ad inserire otto strati in questa racchetta? È davvero un lavoraccio, infatti ci sono voluti diversi anni per arrivare a questa tecnologia. Devo dire che è indubbiamente più cazzuta, ha più attributi, ha più potenza. Allwood ha messo il turbo. Andiamo a vedere subito com'è fatta. Il telaio è sempre quello, il telaio non è cambiato di una virgola, quindi abbiamo questo profilo di 21,5 mm con un piatto da 102 pollici, che non vi deve spaventare, perché comunque non è troppo più grande rispetto ad un 100 pollici. Chiaramente è un boxed beam, quindi un telaio bello squadrato, cuore corto, è sempre lei dal punto di vista estetico, ma cambiano però i quadratini in basso sull'ovale, che diventano praticamente argento cangiante, quindi a seconda di come colpisce la luce, e no l'arancio, insomma i colori dell'arcobaleno. Molto interessante come scelta, tutti i telai donna che adesso hanno lo stesso colore, e di base c'è un nero lucido, che come sappiamo ci piace tanto, il nero è sempre il colore preferito. Anche la versione octa-core ha il manico come la versione hexa-core, ovvero la soluzione unibody, quindi un tutt'uno, il telaio è un unico pezzo di grafite dalla punta del manico fino alla testa. Questo non permette più di cambiare i pallet del manico, ma comunque conferisce una misura un po' più piena, e anzi in realtà in questo caso è montato un grip da 1.2, quindi abbastanza sottile e molto sensibile, che fa un po' effetto cuoio, per accompagnare anche insomma il resto, il feeling del telaio, ma devo dire che comunque tutto sommato non differisce troppo, diciamo, da un altro 3. Quindi un filo più piccolo rispetto al solito, ma non è la struttura ad essere piccola, è il grip ad essere più sottile. E veniamo poi ai numeri che sono realmente cambiati di questa racchetta, perché se abbiamo un'inerzia di 290 kg per centimetro quadrato, a racchetta non incordata, ai quali quindi vanno aggiunti, per sapere a quanto arriva il telaio incordato, vanno aggiunti tra i 25 e i 30, 31, a volte anche 32 punti, quindi non fate il calcolo alla cavolo. I punti di inerzia vanno solitamente molto più spesso vicini ai 30 punti a telaio incordato con un mono a 1,25, quindi 28, 29, 30, alle volte anche 31, 32 punti, quindi sempre, mi raccomando ragazzi, il valore dell'inerzia è un valore empirico. Non si può calcolare su un foglio di carta, con le formule vi aiutano un po' a capire grosso modo, ma con le formule disponibili si ha solitamente uno scostamento anche di 7-8 punti rispetto alla realtà. Quindi abbiamo un'inerzia di 290 punti a telaio non incordato, che diventano praticamente circa 320 a telaio incordato, in questo caso con String Project Armor Soft, che torno a dire è la corda, secondo me, più giusta per questa racchetta. Ne ho provate diverse, ma Armor Soft davvero sembra fatta per Allwood 102, e l'accompagna in maniera perfetta. E poi la rigidità, perché se prima avevamo 52 punti in RA, adesso il telaio è 62 punti in RA, quindi resta un telaio flessibile, perché comunque le misure sono generose, è un 62 RA, su un Boxed e su un piatto 102 si sentono davvero molto flessibili, ma praticamente è aumentato il motore, è aumentato il motore di Allwood, ed era probabilmente il punto dove Donnei poteva migliorare, perché il resto di questo telaio andava davvero molto bene. Ma prima di andare a scoprire come va in campo, e quindi come si è migliorata questa signorina, ti ricordo di iscriverti al canale, di attivare la campanella delle notifiche, e di lasciare un bel like a questo video, in maniera tale che mi aiuterai a portare sempre maggiori e migliori contenuti. E ti ringrazio se mi darei una mano, a te non costa nulla, ma per me può significare davvero tanto. Come va in campo allora questa Donnei Allwood 102 Octa-Core? Ragazzi, è sempre lei, ma è lei con due marce in più, in sostanza, perché ha sempre un bel feeling molto flessibile, un filo meno flessibile, quindi senti leggermente meno che flette, ma senti comunque che flette tanto, quindi non è una racchetta rigida, è 62 punti di rigida, non potrebbe essere altrimenti, è sempre una delle più flessibili sul mercato, ma acquista carattere dal punto di vista della spinta. Se prima era un po' timida, un po' da completare, adesso lei spinge ed è quella potenza piena, morbida, che comunque impatti la palla e senti il telaio che flette, ma poi ritorna e PAM! Questa volta decisamente Donnei ha fatto un grandissimo lavoro e ripiazza la Allwood davvero in cima alla preferenza di tanti appassionati che vogliono la racchetta sensibile, la racchetta flessibile, ma che dia anche un bel livello di potenza. E adesso Donnei Allwood fa esattamente questo, quindi è una racchetta potente, è una racchetta giocabile, è una racchetta comoda in tantissimi aspetti, con un'inerzia comunque vicina a quella di una profilata di 300 grammi e una giocabilità di una profilata da 300 grammi, ma con tutt'altro feeling, perché qui siamo col feeling veramente di una classica vera, di una classica pesante, di una classica piazzata, e poche chiacchiere, è una racchetta che va davvero bene ed è gustosissima dal punto di vista del gioco, delle prestazioni e delle sensazioni. Infatti tra le 300 grammi del mercato fa davvero gioco a sé, perché è una delle più tolleranti, ma allo stesso tempo diventa una delle più potenti sostanzialmente tra le classiche 300 grammi, anzi, probabilmente la più potente tra le classiche da 300 grammi, e alla stessa maniera è tollerante, offre spin, offre controllo, offre davvero tutto e quindi è estremamente completa. E il gran lavoro di Donnei è proprio questo, è stato questo, cioè quello di essere riusciti a dare una racchetta che è un po' uguale a se stessa, ma con un motore decisamente più grosso. Il tutto sostanzialmente grazie al sistema Octa-Core, che ha sempre lavorato molto bene per dare comunque sostanza a telaio anche leggeri, ma soprattutto questa rigidità a 62 punti, che resta bassa, resta flessibile, ma rende il telaio decisamente più potente, decisamente più cazzuto quando va a dare potenza, spinta e così via. E quindi oggi serve meno braccio per spingere con un Allwood, ma soprattutto è aumentata la potenza a regime alto, è aumentata la potenza a regime medio alto, c'è più uscita di palla ed è una racchetta decisamente più completa. Ripeto, è molto difficile da abbattere. Vi deve piacere, ci possono essere mille scuse per non comprarla, perché no, non mi piace, perché qui ha 802, così, colì, ma dal punto di vista dinamico e dal punto di vista sensoriale è molto difficile da abbattere. Infatti dal fondo va davvero molto bene, ha la sua potenza, la sua tolleranza, la puoi utilizzare con lo spin, il top spin è un gran top spin, davvero la palla. Prendi al giro che vuoi, il back è comunque un back tremendo, di quelli morbidi che puoi lavorare, che senti sul piatto. Molto difficile dare, come dire, un giudizio negativo su questa racchetta, perché ragazzi, di difetti non ne ha. Possiamo dire che non ha la precisione di un 98? Sì, possiamo dirlo, ma è comunque piuttosto precisa. Le profilate possono avere una potenza gratuita, superiore, a regime meglio? Sì, possiamo dirlo, ma lei comunque ha un'ottima potenza gratuita in ogni caso e per essere una classica ha indubbiamente una delle migliori potenze gratuite e continua a fare gioco a sé, cioè lei rappresenta una categoria a parte nel mercato attuale. Una 102, non esistono altre 102 sostanzialmente con queste caratteristiche, soprattutto non esistono 102 che siano veramente belligeranti, ma in realtà nemmeno il modello precedente era belligerante, era comoda, era sensibile, era giocabile, ma le mancava, diciamo, quella cattiveria e tanti, diciamo, l'hanno acquistata, poi magari apprezzata anche per molto tempo, poi sono passati a qualcosa, diciamo, di più potente, perché alla lunga chiaramente cambiano le necessità, si vuole qualcosa di diverso e soprattutto Allwood, nella versione Hexacore, era un'ottima nave scuola, quindi ti dava l'opportunità di concentrarti molto sulla tecnica. Lei te lo permette comunque Octa-Core, ma ti dà già quella potenza in più che eventualmente avresti ricercato poi successivamente in un'altra racchetta. E devo dire che Donna gli ha fatto un lavoro della Madonna perché questa racchetta è gustosissima, davvero. Anche io personalmente preferisco lo stelo più lungo, il piatto più piccolo e così via, ma se non guardi cosa hai in mano, ma guardi il risultato che hai in campo, è una racchetta che è estremamente completa, funziona, spinge, ha sensibilità e dal fondo fa un grandissimo lavoro, dal fondo è proprio a casa sua e ha un back tremendo, un bel topspin, una buona precisione sul colpo piatto e tanta, è tanta in tutte le sue manifestazioni. Quindi dal fondo è veramente ottima per essere una 102 perché non sembra affatto una 102 per come si comporta, è decisamente più seria rispetto a questa cifra che può sembrare una racchetta da neofita, ma è tutt'altro che una racchetta da neofita, anzi è una racchetta che va per un giocatore che sia di livello almeno avanzato, quindi per un amatore che gioca già da diversi anni e comunque ha un tennis abbastanza consolidato, ma che vuole comunque un traio non troppo impegnativo dal punto di vista fisico, lei davvero può offrire tanto. Poi vai a rete e trovi una racchetta estremamente sensibile che ti permette di ricamare davvero tutto, a rete un po' di precisione in più non sarebbe male, ma devo dire che comunque si tocca piuttosto bene, la palla non muore mai sul piatto e quindi sia la volé piatta da contenere un attimino e sia la volé, i dettagli con la quale invece si può pestare di più sono comunque di buon livello. Allo stesso tempo lo smash comunque gira molto bene, comunque uno smash che ha la sua potenza già a tre quarti diciamo di spinta, non va strizzata e questo cambia molto rispetto al modello precedente, per avere la potenza non la devi strizzare e anche sullo smash hai una riserva di potenza da poter gestire e quindi concentrarti sul controllo e sulla tua esecuzione. E poi vai al servizio con un discreto colpo piatto, la prima piatta non è precisissima, ma comunque è piuttosto potente, esce decisamente meglio rispetto al modello precedente, è indubbiamente più belligerante e ti offre più continuità perché è più sostanziosa, è mediamente più sostanziosa, per cui ti consente un buon ritmo con il colpo piatto, alle volte esce un pochettino perché non ha chiaramente un piatto da 98 e quindi sicuramente rispetto ad un 98 è un po' meno precisa, ma comunque è una racchetta che la sua precisione ce l'ha. Lo slice è la soluzione che mi dà sicuramente la maggiore soddisfazione dal punto di vista del servizio perché gira tanto, lo puoi gestire un po' come vuoi, quindi lo puoi tirare il putteso, lo puoi curvare e ha una bella precisione. Indubbiamente quando vai ad operare un po' di spin, questa racchetta aumenta molto la sua capacità di controllo e di precisione, così come anche sul kick. E che bel kick che ha Allwood perché la palla te la raccoglieti dal tempo di lavorarla, è molto modulabile e ti permette anche lo strappo di spin, quindi un bel kick. Non pesantissimo, ma un kick di sostanza. In definitiva, ragazzi, Allwood 102 Octa-Core è una racchetta che sulle 300 grammi è difficilissima da abbattere. Lo era già nella versione precedente per motivi diversi, ora ha aumentato il motore, ha aumentato i suoi cavalli, ha aumentato la sua potenza, restando un po' uguale a se stessa, un po' meno flessibile, ma sempre flessibile, ma più potente, più solida, più cattiva e per gli amanti del genere classico, ma che sia comunque tollerante, secondo me si piazza al primo posto, indubbiamente, tra tutte le 300 grammi classiche. Poche chiacchiere. Ha tantissimo da dare, grandissimo lavoro da parte di donnai, alzo le mani, perché qui difetti davvero... non ti deve piacere. In realtà è che l'unico motivo per non prenderla è perché non ti piace, o esteticamente, o perché ti piacciono te lai più rigidi, o per un altro motivo, o perché magari giochi esclusivamente piatto. Ma difficilissimo dirle di no, perché, ripeto, tra le 300 grammi classiche, lei è la numero uno, indubbiamente a mani bassi. Bene ragazzi, io con questa recensione ho finito, vi ricordo che tutte le donnai octa-core sono disponibili sul sito dell'importatore ufficiale donaitennisitalia.it presso il quale avete anche uno sconto e lo trovate nella sezione codice sconto del blog tennistest.com quindi potete andare lì e vedere tutti gli sconti disponibili e attivi, sia tennis che padel, per avere appunto un piccolo sconticino e l'acquisto di questa Allwood 102 o qualsiasi altra cosa. E vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche e di lasciare un grande like a questo video in maniera tale che mi aiuterei a far crescere questo canale, a portare maggiori e migliori contenuti ogni volta e vi ringrazio se mi darete una mano. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.